Siamo qui a Monteverde, a Colli Portuenzi, con alcuni amici e residenti del quartiere per denunciare quello che è successo. Ieri alle nostre spalle un'intera porzione di strada è collassata, trascinando con sé, facendo sprofondare addirittura un camion e una macchina. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la domanda è, dobbiamo aspettare che ci scappi il morto prima di intervenire? Noi al Sindaco Raggi chiediamo più fondi per la manutenzione del manto stradale e della rete idrica sotterranea, più attenzione e più controllo sui lavori che vengono effettuati di ripristino del manto stradale e di ripristino delle condutture. E soprattutto chiediamo l'attivazione di un servizio ad hoc per la monitorazione e il controllo del rischio idrogeologico. Siamo qui per dire basta alle prese in giro, basta ai lavori fatti male, basta al pericolo, basta allo sprofondamento fisico e ideale della capitale d'Italia.